L'hai sparito? L'ho soltanto a dire una cosa Alice, l'ho portato i cornetti! Alice... Ma... L'hai rilasciostato, l'hai capito? Alice... L'ho capito? L'ho capito? L'ho capito? Sono un amico di Alice... Voi volerlo a dire una cosa Alice... Ma sei pazzo? Ma Dego! Sono l'amico di Alice, devo soltanto dire una cosa Alice... L'ho capito? Vieni, l'ho capito? L'ho capito? L'ho capito? L'ho capito? Oh, ma sei pazzo, ma Dico ma sei pazzo, ti metti a menare a me e poi che c'entra lui, che c'entra con noi due, guardando semo venivi, entra in tazzi. Alice, non mi fassi i pezzi, sei mia sorella, per favore. Non me ne prego niente, sa che te dico, me ne vado, me ne vado. E allora vattene, vattene a far lottà. Noi, noi, noi. 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 Scusi, è libero? Lassi, lassi, faccio io. Grazie. Se la metto qui, il porta a bagaglia è rotto. Scusi, è libero. Scusi, è libero. Scusi, è libero. Corriere a personaggio di partenza, piattaforma 6. Scusi, è libero. Allora, come mai a Roma? A un concerto? No, no, magari. Sono venuto a studiare al conservatorio Santa Cecilia. Sa, mio padre ha potuto riprendere casa a Roma per uno studiare per lui. Ho capito, ho capito. Ok, allora la porto al Santa Cecilia. No, no, no. Prima cosa, aspetta. Via Avignone 98. Scusi, è libero. Partiamo? Allora. 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 Amore.